via podgora via via podgora via podgora via via podgora all night long via podgora galas mi piaci buongiorno a tutti e dopo ogni tanto rientriamo perché vedete che stanno pian piano rientrando perché vengono fuori come i funghi la gente viene vicino vedete Vincenzo abbiamo Paolo della Ferro Style no? Ferro Style perché devi dire che c'è anche lo scuto poi è tornato anche Reduce da una serata meravigliosa al Blue Energy Stadio Friuli con un risultato che ho 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 e poi abbiamo anche il meccanico delle tre sorelle ecco mi chiamano le tre sorelle allora mi viene spontaneo quella barzellettina di quel neonato possiamo farla qua che viene bene di quel neonato che praticamente nasce questo bambino appena nato si tira su e all'ostate c'è il dottore gli fa che fa l'attacca il bambino si rasta Dè sento tu che ti attacca un'amma e mari qua che era incinta di me porca puttana insomma una roba strana così quella fanno le finiture signora non sappiamo cosa succede ma cosa succede non si sa così quella insomma la mamma non so gli lo dà in braccio al papà ma questa è il frut il bambino si rasta Dè sento tu che ti attacca un'amma e mari qua che era incinta di me e lui sì e non dai fastidi signori ritorniamo c'è anche Ranieri il nostro osaggio quindi ogni tanto l'estemporaneo vi aspetto vi aspetto l'uno l'uno festa dei santi tu non venire perché bevi troppo festa dei santi Rivignano piazza centrale 20 e 30 con questa bellissima immagine vi diamo un saluto anche gli amici che ci vedono dall'estero c'è un amico di Bruxelles anzi del Belgio non so che vede allora dice quando fai le barri allora ciao anche dalla Scozia dalla Scozia il nostro amico Paffetto poi dal Guatemala Indonesia Madagascar ciao 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 ecco c'è anche lui grazie dell'ospital via podgora via via podgora via podgora via via podgora galla mi piaci via via podgora all night long via via galla mi piaci perdone